Signori e signori buonasera a tutti benvenuti al videocommento capitolo 1005 di One Piece vedete perché negli ultimi tempi non è più buonasera e stasera avete anche capito il perché allora signori cari è un capitolo particolare soprattutto un videocommento che io non avrei voluto farlo in questa maniera perché pian piano poi ci ho pensato e mi sono reso conto che il mondo non sta andando nella giusta direzione se siamo costretti a dire certe cose ma andiamo con ordine andiamo sempre con ordine non c'è modo migliore che iniziare con la cover beh in realtà quando vedo ste cover a richiesta su katakuri che mangia ciambelle eccetera eccetera onestamente mi chiedo poi quando è che ripartiranno le cover serie anche se quella lì diciamo non è stata proprio eccezionale l'ultima quella lì di pound però comunque perlomeno qualcosina di nuovo nel manga c'era queste sono solo robe richieste dunque il capitolo su manga plus uscirà lunedì solitamente esce lunedì e lunedì è primo marzo che ci crediate o no e quindi una settimana esatta dall'otto marzo che non è solo la data del mio rogito se tutto va bene ma è la festa della donna e sarebbe anche san giovanni di dio nel caso di qualche onomastico di uno che si chiama san giovanni no san giovanni battista san giovanni di dio sapete sono due diverse e quindi io credo che non sia stata una coincidenza un certo tipo di mercificazione del corpo femminile da una parte che tutti maschi però dall'altra in realtà sono stati affrontati dei temi che ripeto non si non si dovrebbero neanche affrontare però vabbè parliamo con calma di questo principalmente c'è questo discorso no di questo san giovanni che solitamente il principe azzurro che salva la principessa come mi era capitato di dire in un vecchio oppiguitato tempo fa in realtà sto giro è stata dalla principessa a salvare il cavaliere o forse vorremmo dire cavaliere cavaliere viene a salvare il tuo principe azzurro non lo so però si discute da un lato va bene la donna l'uomo e poi dall'altro su san giovanni san giovanni ha fatto una brutta figura se robe qui robe da da lettore medio dice e poi c'è il discorso di jack jack e tutto il resto franchi contro sasaghi tutte le altre news perché oda con la scusa del 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 san giovanni che chiamava nico robin dal lì come si buca ma cazzo si dice in filo diffusione come si dice dal lì e quindi stavo dicendo lumacofoni ma non ci azzeccano niente da lì tramite i cyborg ecco che oda ne ha approfittato per farci vedere un po di novità su questa battaglia però vabbè non perdiamo altro tempo andiamo alla sigla e poi andiamo sparati su questo video commento allora stavo pensando che la cosa più giusta da fare secondo me è quella di andare un attimino a ripercorrere ciò che accade e poi andiamo sulla tematica dunque in realtà tutto inizia proprio già dalla prima pagina con lì dove eravamo rimasti in fondo no black mary che sta menando sanji minacciandolo di ucciderlo picchiarlo poi dopo scopriremo che in realtà non vuole uccidere a meno che non chiama nico robin perché lei vuole a tutti i costi nico robin e ricordiamo qual è il piano tagliarle le braccia tagliarle le gambe per neutralizzarla giusto tenersi viva la sua testa che è quello che serve per poter reggere i pony griff una volta utilizzata poi verrà buttata via questo è più o meno il piano infatti alla fine proprio dire a questo black mary tu diventerai una cosa diciamo un oggetto qualcosa da utilizzare come fosse un google translator diciamo e quindi ha creato anche questa grande trappola perché scopriamo che lei non soltanto tira fuori le rannatele ma sono rannatele appiccicose che isoca scansa di proprio non a caso non potevano mettere la foto del mitico clown di hunter hunter dopodiché che succede succede che appunto black mary inizia a picchiare sul serio sanji oda certamente non poteva farci mancare questa scena visto che lui si diverte tantissimo a fare un po di questi giochini abbiamo il maso da una parte e fin qui veramente nulla di nuovo nel senso che era tutto ben oliato tutto ben pronto tutto ben prevedibile in realtà era già prevedibile a suo tempo non i corobini contro black mary che era un combattimento citato già da tempo giusto così per essere certi di cosa stiamo dicendo mettiamo qualche immagine random così sanji che le prende da violet che tra l'altro anche la scena è molto simile a quella lì infatti non a caso sanji chissà perché perde anche sangue dal naso ogni volta che viene colpito da un calcio di una ragazza soprattutto se nel caso di violet che per alzare questo calcio lei alza anche la gonna e quindi chissà perché il sangue esce anche dal naso e poi ovviamente anche califa che prende in pieno sanji e così via tutto previsto veramente tutto previsto che cosa accade accade che a un certo punto ci sono tutte le varie donne di black mary ecco che qui la situazione inizia a diventare più interessante che dicono delle frasi di omaggio a sanji perché perché loro partono dal presupposto che sanji un cavaliere ha dimostrato di essere un cavaliere certamente un buon cavaliere che cosa fa si sacrifica pur di non farsi salvare da una nakama no ti prego donna vienemi a salvare perché giustamente da via un uomo si fa salvare da una donna dai che roba è ragazzi che stiamo a parlare e allora ci sono queste frasi no di omaggio per sanji il grande eroe perché accetta la sconfitta ma non mette in rischio una sua nakama pur di farsi salvare il culo da una donna e quindi oh mi viene da piangere guarda che quel ragazzo non vuole che i suoi campagni finiscono in pericolo ma in realtà qui è specificato la sua compagna ricordiamoci che in giapponese non c'è differenza tra singolare e plurale e a suo punto neanche tra maschile e femminile perché in questo caso si parla di nakama probabilmente si intendeva proprio che la sua nakama fosse in pericolo cioè i suoi compagni che altro sta chiamando nico robini quella vuole è pronto a morire senza neanche mettere un suono ah se solo non fosse stato un nemico credo che mi sarei persino potuta innamorare quindi c'è questo fanservice ma la domanda è solo fanservice oppure oda ci vuole far capire che in realtà questa mentalità secondo cui è imbarazzante se un uomo si fa salvare da una donna non è soltanto una mentalità maschile è persino femminile e qui già iniziamo ad entrare un po' in una diatriba perché effettivamente a volte ci si chiede se il problema della nostra società è soltanto causato dagli uomini che impongono determinate cose oppure sono le stesse donne che vogliono vivere in una società più o meno organizzata in questa maniera sapete che esempio su facebook c'è il signor distruggere no che spesso fa vedere proprio il gruppo delle pancine eccetera cioè cercare una parità di sessi da quelle donne lì dalle pancine è molto difficile no per dire quindi anche in questo caso qui volevo portare alla vostra attenzione questo ragionamento infatti c'è un'antropologa italiana morta morta pochissimi anni fa 4 5 anni fa adesso vediamo un po' comunque che i da magli si 2016 se ricordo bene che lei ha detto una frase molto dura sulle sue sulle donne ho passato una vita a difendere le donne ma che delusione purtroppo devo constatare che non pensano che non sanno fare politica non sono capaci di farsi venire un'idea nuova la sua non è un'idea dove le donne sono incapaci ma sono incapaci di farsi venire un'idea nuova c'è un po come dire ho provato a difenderle ma finché non parte da loro una certa iniziativa è difficile quindi mi è venuto in mente un po questo discorso comunque andiamo avanti allora passiamo invece alla parte maschile cosa dicono gli uomini nel momento in cui Sanji alla fine decide di chiamare nico robin e quindi di farsi salvare da una donna beh innanzitutto le donne lì presenti con black mary ci rimangono quasi male che cosa davvero è anche comica la cosa ma qual è la reazione ad esempio c'è beppo che bene o male dice soltanto questo è la voce di Sanji non dice nulla dopodiché c'è wire wire il tizio in primo piano qui che vedete quello di loro si chiama hit caldo e chi la pensa come wire perché lui dice ma che messaggio è questo ma non si vergogna perché giustamente un uomo deve regognarsi a farsi salvare da una donna oppure Sasaki che mentre combatte contro franchi dice hanno spinto un uomo a utilizzare delle parole così poco onorevoli quindi sia tra i nostri ovvero sia coloro che combattono con la nostra coalizione in questo caso uno degli uomini di kid sia tra i nemici quindi Sasaki uno che combatte tra le fila di kaido l'idea è sempre la stessa dal punto di vista maschile è una vergogna se un uomo si fa salvare da una donna non ha vergogna a farsi salvare da una donna e quindi c'è questo discorso qui secondo voi è possibile che oda non ci abbia pensato secondo voi è possibile che oda non si sia detto certo che però se prendo saggi e faccio modo che lui chiami nico robini per farsi salvare la vita da una donna certo che lo metto in difficoltà oda non ci ha pensato oppure ci ha pensato ma è giunto alla conclusione che è la scelta migliore per il personaggio ma non perché vuole umiliarlo non perché vuole sputtanarlo o altro oppure vuole far vedere che zoro è più figo come direbbero i zoriani ma per far capire che è così che funziona a proposito di zoro tra parentesi ricordiamoci che zoro per tutta la sua infanzia non è mai riuscito a battere una donna e tutta la sua voglia di diventare il numero uno viene grazie a quella donna che lo batteva sempre in lacrime ok quindi attenzione anche poi agli zoriani è perché siamo di uno che è sempre stato sconfitto da una donna quindi va beh andiamo avanti comunque prima di arrivare proprio a questo discorso andando anche un po più là sempre restando sulla lettura di questa prima lunga parte del capitolo poi all'arrivo di nico robin c'è una cosa molto interessante perché blackmail a un certo punto lui dice io ti voglio rendere ti voglio rovinare come quegli uomini lì dietro e quindi vengono inquadrati questi tipi nei bozzi bozzoli che stanno lì ti voglio per me amo solamente la grande black mary praticamente uomini completamente sovraffatti anche mentalmente no da black mary e si vede anche che sono stati anche piuttosto menati per cui oggi anche lei parlavamo della sindrome di stoccolma effettivamente non è da escludere che lei non è che utilizzi il potere del frutto un veleno o un qualcosa come un po in fondo la regina delle hans in hunter hunter che lei proprio con la puntura della coda da scorpione praticamente manometteva anche il cervello di questi che si inchinavano a lei diventavano suoi esudditi invece probabilmente questi qui sono proprio menati talmente tanto che alla fine se ne vanno col cervello vanno in una crisi in uno stato di trance talmente potente che alla fine non ci capiscono più nulla e lei dice voglio che tu non sia più capace di vivere se io dovessi scomparire una sorta di tentativo micidiale di umiliare l'uomo tra l'altro questa cosa già era comparsa nel personaggio di komurasaki neanche yori ma proprio komurasaki quando lei vi ricordate aveva ridotto all'astrico una marea di uomini quindi una bella donna che sfrutta gli uomini e poi alla fine li abbandona riducendoli all'astrico quindi c'è sempre questo discorso di amore odio che è particolare perché ricordiamoci di cosa stiamo parlando black mary chi è in fondo è una prostituta si può dire sul canna si può dire nel senso che lavora lì nelle cose a luci rosse no e ricordiamoci che anche la la piccola figlia di yasui e lavorava lì era stata venduta lì no piccolo tocco lì come e quindi stiamo parlando di donne e anche iori è stata costretta praticamente a fare quello per cui stiamo parlando di donne che hanno a che fare con uomini probabilmente papponi gente che va lì paga per avere in cambio prestazione di un certo tipo e lei alla fine si vendica in questa maniera tu mi vuoi comprare e io ti distruggo mentalmente fisicamente economicamente come nel caso di komurasaki quest'odio dove alla fine citando naruto la spirale di odio chi è che inizia per prima no è prima l'uomo che sbaglia riducendo la donna in quello stato o è la donna che comunque si vendica troppo riducendo gli uomini in questo stato alla fine io chiedo soltanto questo seduzione alla misandria che è l'opposto della misoginia cioè l'odio verso l'uomo dove voglio andare a parare con questo discorso tornando a one piece attenzione che potrebbe partire anche il super flashback di black mary una bambina che è stata poi vabbè grazie al frutto è diventata così probabilmente questa sarà la sua forma ibrida quella che vediamo magari black mary ibrida attenzione comunque una una bambina che è stata costretta a un certo tipo di situazioni però non è da escludere che quindi si potrebbe affrontare dei temi anche molto importanti oggi live dicevo lo stupro perché non si può dire queste parole va a finire che poi buttano giù il video è peccato e poi andiamo avanti giusto per trovare sempre il pelo nell'uovo per chi proprio dice ma sei sicuro non è che sanji è debole addirittura sanji dice non voglio attivare l'aghi dell'armatura perché ho paura di ferirti giusto a caso citiamo katakuri quando lui con la sua super mega aghi dell'armatura quelle i pugni talmente duri che quando ruffi andava a scontrare il suo pugno contro quello di katakuri dopo vi ricordate doveva soffiarsi le mani perché era troppo forte quindi sanji dice se io adesso attivo l'aghi dell'armatura per evitare di farmi male va a finire che io faccio male a lei cioè lei mi dà un pugno ma io attivo l'aghi dell'armatura e lei si potrebbe far male quindi lui si fa colpire senza neanche attivare l'aghi dell'armatura pur di non ferirla e quindi qui arriviamo poi a quel discorso sì però che delusione sì però che schifo passaggio mamma mia eccetera eccetera parliamo dopo di questo e poi arriva finalmente nico robin bellissima la sua entra di scena il suo doppio volto da un lato lei ricorda di essere stato in un'organizzazione criminale qui c'è tutta la citazione dalla basta e poi dopo ovviamente grazie per avermi chiamata sono contenta senza un minimo di sanji mamma mia non te la sa cavare da solo sanji non preoccuparti anche se volevo fare altro va bene arrivo lo stesso invece no sono contenta che tu mi abbia chiamato ed è qui il punto cioè qui il punto alla fine è sempre una decisione maschile cioè è quello il problema no noi dobbiamo essere qui a giustificare sanji quello che fate so parliamo di nico robin scusate ho cercato nico robin su internet mi è venuta sta foto non so perché mi sento molto bene in questa posizione comunque dicevo nico robin fishman island mi ha cambiato questo scusate come sfondo non ci posso fare niente casualità comunque tornando a noi noi uomini decidiamo che la donna non deve andare a salvare l'uomo cioè non è che chiediamo l'opinione scusa donna qual è la tua opinione è nico robin che dice no grazie per avermi chiamato no siamo noi uomini che decidiamo che la donna non deve andare a salvare l'uomo e quindi la reazione femminile deve essere sanji perché mi hai chiamato cioè è una roba pazzesca devono decidere tutti gli uomini le donne non devono neanche essere interpellate noi decidiamo cosa deve fare l'uomo cosa deve fare la donna è pazzesca questo almeno per chi è ancora lontano quindi il primo punto è questo di cosa stiamo parlando di femminismo semplicemente rispetto perché cito naruto vi ricordate no naruto all'inizio quando combatte contro zabusa per chi non conoscesse il manga all'inizio della serie naruto ci rimane male perché maestro kakashi dice naruto tu resta dietro troppo forte per te questo naruto ci resta male perché è che caso si sente trattato come un bambino no non come un vero ninja invece è bello quando dopo naruto cresciuto combatte contro kakuso e kakashi invece dice naruto vai cioè va tranquillo e quindi lui capisce che non è più un bambino che veniva protetto ma è diventato una persona rispettata stiamo parlando di questo di quello cioè nel senso qual è l'argomento perché nico robine è assolutamente rispettata cioè è un anacama a tutti gli effetti maschio femmina non mi interessa io non picchio questa qui nico robine questa qua vuole combattere contro tre vieni cioè non è il problema vieni se era un anacama anche tu vai a combattere cazzo c'è il rispetto tutto qui perciò dico perché diamine è necessario già dalla live dover parlare di queste cose non dovremmo parlare di queste cose dovrebbe essere normale vabbè comunque andiamo avanti questa è una cosa che è troppo bella perché quando vedo sta c'è questa frase no che è girato spesso di questi libri già per bambini lavaggio del cervello la mamma cosa fa cucina stira mentre invece il papà cosa fa lavora e legge perché la mamma non legge nemmeno la mamma ho cucino stira bellissima sta roba calcolando che tra l'altro scusate ma questa la devo far vedere sto registrando sto video nella mia lavanderia no c'è il ferro da stiro c'è la lavatrice di cui capito dove cazzo io vado a registrare oddio cosa ho combinato vabbè ce l'ho fatta sì lo prevedete dove cazzo registro i video nella lavanderia io io sono la mamma che cucina e stira vedete bellissima vabbè comunque tornato questo quando è lecito per un uomo farsi da parte e lasciare il compito alla donna perché ripeto decidiamo sempre noi uomini quando è lecito sta pazzesco comunque andiamo avanti in live è riuscito fuori anche questo argomento molto interessante quando Rufi e Nami combattono contro l'esercito di Big Mom e meno male che c'è quest'altro di nome Rufi che non avendo tutte queste sue costruzioni mentali no gli avevo fatto lo scolapasta nell'opv33c Rufi non ci pensa proprio di dire Nami fatti da parte ci penso io ad affrontare snack fatti da parte ci penso io a salvarti contro l'esercito di Big Mom beh lui è lì con Nami combatte con Nami non so se fai con Carlo lì con Nico Robini combatte con lei sta con Sanci combatte con Sanci e con Zoro combatte con Zoro cioè per lui non esiste sto problema uomo donna siete Nakama combattete dopo di che lui ovviamente da capitano li vuole difendere tutti ma senza nessuna preferenza no questa è una delle cose più belle di Rufi ad esempio e poi alla fine mi chiedo che cosa sia peggio cioè è peggio il fatto che noi dobbiamo stare qui a giustificare Sanci dicendo no ragazzi guardate Sanci non è che è scarso semplicemente non ha voluto combattere cioè è grave sta roba se dobbiamo stare qui a specificare queste cose no oppure è peggio il fatto che dobbiamo comunque mostrare che Nico Robini ragazzi guardate Nico Robini è forte eh davvero sì sì è forte cioè anche se è una donna quindi inferiore però è forte cazzarolo davvero cioè è grave anche questo oppure il fatto che dovremmo siamo qui ad analizzare che sì strike lo so che Sanci se avesse voluto avrebbe battuto Black Mary questo lo so so anche che Nico Robini è forte dopo tutta dalla basta lei ha sconfitto pelle per dirne uno ma era un personaggio forte della barque di tutte le organizzazioni di crocodile però è strano comunque vedere questo 1500 sa questa sensazione comunque un uomo che chiama una donna si fa salvare da una donna ecco non so quale sia peggio delle tre opzioni il fatto di dover giustificare questo senso di strano del fatto che Sanci si faccia salvare da Nico Robini oppure le prime due boh comunque io vi lascio qui con questo sguardo di Nico Robini assassino e la prossima volta pensateci prima di pensare male di Nico Robini perché appunto dopo fa vedere quanto lei sia cazzuta in tutti i sensi perché mi chiedo se un domani sarà possibile poter fare un commento su situazioni del genere senza dover parlare di uomini donne l'uomo così ma ovviamente se attenzione non è colpa vostra non sto dicendo perché in Italia siamo messi male eccetera e Oda stesso che come avete visto a Wire o a Sasaki ha fatto dire tipiche frasi maschiliste che vergogna che vergogna quindi è lui stesso che vuole citare questo argomento poi magari se qualcuno nella community ha scritto da qualche parte per me Sanci ha fatto una figura di merda oppure altro vabbè poi mancano anche altre conoscenze di One Piece di cui parliamo dopo all'angolo della posta attenzione perché dopo rispondo in un certo modo sempre a modo è semplicemente citando One Piece per parlare poi di Sanci comunque sono tutte qui le tue ultime parole quando mi ha invitata credeva che fosse una ragazza facile da catturare e qui poi abbiamo appunto il rispetto una nakama della futura shurma dei pirati che giustamente affronta un personaggio comunque molto forte come Black Mary bene un combattimento equilibrato che ci sta e siamo tutti felici così ok detto tutto ciò basta cambiamo argomento abbiamo visto in questi veloci scambi di scena scambi di scena tutte ste robe quindi Jack si è rialzato sta andando a combattere contro i foderi rossi probabilmente anche Sanci sta andando rì quindi quindi Jack contro Sanci non è detto non è detto perché in realtà in questo capitolo abbiamo visto anche questi mini cyborg che secondo me sono prodotti come dopo ve ne parliamo un po' da Queen quindi anche Queen in realtà potrebbe essere papabile al combattimento contro Sanci mentre invece King e Mark ormai come grande richiesta sembra che sia il combattimento adesso più in voga anche se in realtà non vediamo i figli di Big Bam però spero che chissà che fine hanno fatto poi Frankie e Sasaki questo è sicuro Nami e Usopp sono rivisti anche ultime page one credo che siamo sempre lì mettiamoci anche ovviamente la piccola Tamako sui Kibidango GB Husbu ormai combattimento che sta anche andando avanti da un bel po' Apu contro tutti gli uomini dell'ex mafia quindi Yogoro e tutti i leader della mafia quelli lì della Yakuza Chopper sta andando a fare il vaccino quindi Oda ci ha fatto anche vedere un pochettino poi altri churpe avete visto Wire, Beppo che combattono contro tizi sparsi lì robe più d'anime che da manga nel senso che Oda non vuole perdere tempo a fare combattimenti uno contro uno poi quando ci penserà l'anime a far vedere un po' di scene miste capito anche a Marineford è stato così e quindi nulla di che mentre invece appunto ci sono questi manufatti di Queen non è un tizio particolare non si sa bene poi questo potere come nasca certamente c'è da dire che forse un'unione di più poteri magari c'è un tizio nella ciuma di Husbu tutti abbiamo pensato a una certa persona che ha ovviamente questo queste maschere davanti però magari quel potere viene potenziato dal fatto che poi ci sono i cyborg costruiti da Queen quindi Queen crea questi cyborg quello lì ci va a mettere il suo potere sopra e quindi c'è un'unione di poteri certo interessante quello che però veramente a me non mi è piaciuto in tutto questo piccola critica è che anche Hulk Island Big Mom col suo potere poteva avere una marea di spie vi ricordate sotto l'acqua soldati spie messi ovunque al punto che alla fine ci eravamo detti ma come fanno questi a intrufolarsi in un territorio di un imperatore e infatti c'erano riusciti ma semplicemente perché era l'imperatore che li aveva sgamati da un pezzo e li aveva fatti arrivare a terra giusto per riprendersi Pecom ma in realtà col cavolo che quelli riuscivano davvero ad arrivare i figli ecco invece per quanto riguarda Kaido e Orochi e tutto il resto questi si sono intrufolati in realtà a Onigashima sono arrivati tranquillamente un gruppo sul retro un gruppo davanti vi ricordate è stato a battere quel primo avamposto con Rufy no e Kid e Lo che sono arrivati lì si sa e Borg non c'erano sono arrivati tutti quanti adesso vabbè questa è la piccola critica scusate ogni tanto pure le faccio le critiche non è che dopodiché c'è un'altra cosa che non sottovaluterei ha fatto in questo capitolo 1500 ed è il discorso che dentro alla cupola c'è il deposito proibito e da fuori si sente là dentro non c'entra più nessuno c'è una maledizione quale cavolo è questa maledizione cosa contiene questo deposito proibito ricordandoci che il Giappone è una nazione che da sempre ha avuto tesori nazionali tesori segreti tesori proibiti tangibili intangibili tesori viventi il Giappone è un po' abituato a tenersi ste robe i tre grandi tesori giapponesi la gemma lo specchio la spada kusanagi che sono tra l'altro i tre mosse tipiche di borsalino comunque abbiamo qui kokuno quindi i tesori del Giappone e poi quindi quale cosa potrebbe esserci nascosto lì dentro le bambole kokeshi perché si rifanno a un grande ricordo di Kaido perché ci piace sempre un po' l'idea che Kaido possa avere un passato un po' malinconico un lutto eccetera eccetera una gemma quindi un ricordo oppure molto più semplicemente il rotpone griffo sta nascosto lì dentro e Kaido non vuole che nessuno ci fate quindi ha detto a tutti quanti che quel deposito è proibito la cosa più semplice di tutte cioè più facile di quella se muore no il famoso rasio di Ockham ok e poi infine per quanto riguarda la fighezza di Brook perché torniamo di nuovo al combattimento oltre a questo fatto che vabbè qui abbiamo una certa una certa situazione affrontiamola con una certa freddezza ok momonoso che può entrare nel kimono di Yamato qui c'è veramente da chiedersi questo ma a parte le cose se vogliamo vedere due tette ci sono tanti siti dove poterle vedere quindi il discorso è un altro perché Oda ha fatto tutto ciò cioè perché a parte che dopo momonoso che non si vede nemmeno nel kimono di Yamato cioè dove che fine ha fatto sto bambino ovviamente qui poi tante battute potremmo fare dove si è infilato momonoso ma a parte le battute ma a parte gli scherzi perché questa sorta di mercificazione del corpo femminile perché se voi mi dite che questo è il capitolo 1500 che come era presumibile come avevo pensato tra il 1300 1400 1500 arriveranno una marea di hype una dietro l'altra ci stiamo avvicinando verso la fine del volume questo potrebbe essere l'ultimo capitolo del del volume 99 il primo del 100 e quindi Oda ti fa venire quella voglia di acquistare il volume così tu puoi avere cartaceo Yamato che mostra le tette allora automaticamente sì è una mercificazione del corpo femminile perché è un po' come farsi pubblicità no la pubblicità della nuova benzina di quella marca Lady Benzina ok fatemi vedere perché dove acquistare la vostra benzina cosa fa migliore il mio motore aumenta la prestazione della mia batteria no nella pubblicità fanno vedere una donna che prende la pompa in mano cioè questo è tanto e si mette a 90 gradi per fare benzina ok ho capito tutto molto bello mi viene tanta voglia di acquistare la vostra benzina però non mi avete spiegato quale sarebbe la prestazione di questa benzina cioè l'unica cosa che vedo è una donna che mercifica il suo corpo no quindi qual è il motivo di tutto questo io non credo che Oda sia così banale da voler fare semplicemente un po' di pubblicità One Piece oh hai visto One Piece che manga figo che guarda ci sta quella che fa vedere le tette io non credo che sia solo questo credo che sia forse tutto un mix di discorso che si va ad unire alle cose viste prima proprio perché siamo verso l'otto marzo la festa della donna un mix di cose secondo me comunque vabbè alla fine a proposito di tette parliamo anche di Black Mary perché lei utilizza un'arma il Wanyudo no che il diciamo quest'arma che ha a che fare con le anime e quindi il mio primo pensiero è questo ma Brooke quando si sarà ripreso da certe visioni combatterà magari contro il Wanyudo quindi Brooke si occuperà della parte delle anime perché quell'arma le ha a che fare proprio è un cacciatore di anime ci sono delle leggende micidiali sul Wanyudo ad esempio si dice che questa ruota di anime una donna la incontra chiede per cortesia che non si scagli contro il suo povero figlioletto neanche il tempo di girarsi e trova suo figlio a terra agonizzante senza una gamba si va a rigirare il Wanyudo si sta mangiando la gamba di quel bambino quindi questo è il tipo di mitologia che si nasconde dietro il Wanyudo questa ruota infuocata cacciatrice di anime e ok interessante anime contro anime no sul king sappiamo bene chi è e poi al tempo stesso volevo anche farvi notare che non so se è un effetto di penombra però guardate le braccia il collo e l'altro braccio di Black Mary che iniziano a diventare più neri lo so che stavate guardando da un'altra parte però se guardate le braccia il collo non so se si è ripeto un effetto di ombra perché dice guardate mi dietro la schiena anche se in realtà purtroppo l'occhio c'è caduto da un'altra parte ma può essere che lei è Black Mary sul serio cioè quando si trasforma nella versione non ibrida ma la versione completa di ragno probabilmente potrebbe diventare tutta nera ricordando magari anche Vergo e robe varie non so ricordate no personaggi pieni di hachi e robe così non lo so però vedremo che tipo di combattimento uscirà fuori certamente Verrico Robin sarà dura eh tu diverrai una cosa di Kaido bella minaccia questa nel senso se sarai proprio completamente sottomessa a Kaido perché io ti sconfiggerò tagliamo le gambe le braccia eh quindi un capitolo bello tosto eh veramente con tanti argomenti poi ripeto ragazzi le cose che dovevamo dire ce le siamo dette andiamo avanti dunque purtroppo non c'è stato nulla perché la penombra non è comparsa quindi le quote della volta scorsa rimangono quel che sono niente tutte annullate e allora andiamo avanti cosa accadrà nel prossimo capitolo Oda potrebbe cambiare ancora una volta scena tornare sul tetto approfondire qualche altro combattimento magari Frank e Sasaki oppure semplicemente Jinbei e Uswu visto che sono visti lì ma oppure ad esempio andiamo avanti Sanji potrebbe venire deriso da tutti questa non l'ho ancora sentita in giro però nei commenti però mi piacerebbe sta cosa Sanji adesso esce da lì incontra altri personaggi e magari potrebbero tutti quanti che ridono di Sanji oh è lui è lui è quello che si è fatto salvare da una donna è quello lì che non ha come si è fatto sconfiggere questo è il sequel di questa storia tra l'altro in un capitolo che uscirebbe nella settimana dell'8 marzo uscirebbe proprio l'8 marzo su manga plus l'uomo che si è fatto salvare da una donna interessante questa cosa poi rivedremo i figli di Big Mama perché veramente mi pare strano non vedere più Prospero e tutti gli altri e poi sarebbe anche interessante se stiamo rodeando intorno a Sanji come personaggio chissà una ricomparsa di Pudding ma ci starebbe bene le direbbe io so perché Sanji si è fatto sconfiggere da Black Mary solo io so perché Pudding ci starebbe veramente bene nel prossimo capitolo e poi sempre se si innesca questa dinamica e poi vabbè mi piacerebbe che comunque se proprio proprio dobbiamo vedere la persona nella penombra perché no la prima candidata rimane pur sempre Iori un personaggio che è letteralmente scomparso da decine di capitoli non solo per il flashback di Oden ma veramente da troppi capitoli quindi ci starebbe bene che ritornasse poi qualcuno dice Toki qualcuno va bene sappiamo tutta la storia Enel è lì ma le lasciamo stare la più bella della settimana ok abbiamo visto tante tette e tante robe così come anche gli occhi di Nico Robin erano molto belli eccetera però sapete in ogni saga c'è sempre quel momento in cui una donna deve ricredersi di Sanji deve avere quel momento in cui dice wow per me è questo il volto di Black Mary quando Sanji decide di chiamare Nico Robin nessuno se l'aspettava e anche in questo caso Sanji è riuscito a scioccare comunque va da una donna senza combattere e quindi mi piaceva questa immagine qui per la più bella della settimana anche per non cadere nel ridicolo di far vedere le titte onestamente e quindi andiamo all'angolo della posta allora Alexander Rocks che dice questo buonasera Stefano lettore del forum spero di essere in tempo per il videocommento guardate che adesso parliamo ancora di certi argomenti non mi dilungo sui fatti del capitolo saranno stati sicuramente già ben trattati ma vorrei farvi notare come nei primi giorni di febbraio Yoshiro Mori il presidente del comitato organizzatore dei giochi olimpici di Tokyo ha commentato così la scarsa presenza femminile nel comitato dice il problema è che le donne parlano troppo e se ce ne fossero molto in consiglio le riunioni non finirebbero mai oh che battuto mai quindi bisognerebbe prima di tutto limitare la durata dei loro interventi perché faticano a concluderli e risultano fastidiose bene un'altra frase per chiarire il ragionamento le donne hanno un forte senso della competizione se uno alza la mano per prendere la parola anche le altre si sentono in dovere di farlo e la faccenda così non finisce più dopodiché in sala non ci sono state molte obiezioni ma soltanto risate quindi attenzione che in Giappone è stata una settimana un po' accesa forse dal punto di vista di maschilismo, femminismo e quella roba lì comunque dice il nostro amico qui scusate avevo spento la webcamera si ci sono sono sempre vivo comunque dice continuando il messaggio di Alexa quindi questo può far quando si sono no ero qui quando si sono sollevate le polemiche Morris è poi scusato affermando che non parla molto con loro cioè con le donne e dopo un iniziale rifiuto a ritirarsi dalla carica si è dimesso immagino con decise pressioni dall'esterno un episodio che si commenta da solo questo può far comprendere come in Giappone oltre che nel resto del mondo Italia compresa ci si è ancora molto lavoro da fare in questo senso per sensibilizzare la parità tra uomini e donne sul lavoro ma non solo il capitolo che ho da dissenato siamo proprio una lezione magistralis per comprendere come un uomo dovrebbe comportarsi non ferire mai una donna ad ogni costo ma riconoscere le qualità e i meriti affidando anche i compiti che noi stessi non riusciamo a gestire questa ovviamente è la mia modesta opinione vabbè Alexa ne ha fatto molto bene a ricordarci il fatto che in Giappone in questo momento quindi è stata una settimana un po' accesa sul discorso di questo ruolo della donna anche se in realtà il combattimento Sanji, Black Mary eccetera era stato già previsto da tempo cioè già da subito come fa uno come Sanji a cadere così facilmente in una trappola del genere è tutto voluto cioè Oda sin da subito aveva deciso che Black Mary e Nicole Robin avrebbero combattuto perché come vi dicevo anche nel precedente video commento in fondo se ci pensiamo bene le due sono veramente molto compatibili se non mi credete andate per rivedere l'ultimo video commento Nico Robin che fa la ragnatela con le mani questa qui che combatte poi donne e donna c'è sempre stato no Miss Double Finger contro Nami o dalla basta per dirne uno quindi ci sta questo tipo di combattimento ci sta questo tipo di cosa però certo che questa settimana cade proprio a fagiola a questo punto qui andiamo avanti il Mad Mario che dice bel capitolo mi sembra sempre di più più di vedere la sostanza della giuma di Kaido e devo dire che ci sono delle cose che mi hanno stupito e vado a delencarne una ciò che mi ha colpito di più è stata Black Mary Black Mary chiamatela come quando l'ho vista indossare i tirapugni e vedendo la violenza con cui li ha usati ho seriamente esclamato cattiva vero? è tra i villani ma francamente non la facevo così violenta la caratterizzazione di questo personaggio per il mio si conferma come la più intrigante tra quelle di Toby Roppo una vera e propria femme fatale femme fatale anche parecchio inquietante il suo atteggiamento verso gli uomini che imprigiona e qui ripeto ci sta anche magari la teoria di un flashback sul perché lei veramente odia gli uomini cioè li vuole proprio sottomettere a meno che l'uomo in questo loro non è Kaido che è fortissimo eccellente e molto intensa la scena di Sanji un passo avanti non da poco da sentirsi un cavaliere in tutto e per tutto a chiedere aiuto proprio a una compagna per uscire da una situazione da cui lui stesso ammette non sarebbe non riuscirebbe a uscire da solo vero anche questo anche se secondo me poi non so si tratta di evoluzione nel senso che Dress Rose era tutta un'altra storia cioè lì semplicemente Violet era un personaggio in realtà buono perché era legata al vecchio re Riku no? e quindi un altro fatto qui Sanji o chiedeva aiuto oppure veramente rischiava o di morire oppure comunque Black Mary dopo aver bucciso i foderi rossi quindi alla fine il suo limite c'è stato cioè Sanji cosa vuoi fare? farti uccidere e basta? beh allora se proprio proprio non è un'altra scelta chiama Nico Robbins l'ha fatto ha fatto la scelta giusta in fondo però ripeto in evoluzione rispetto a Dress Rose non lo so perché secondo me sempre quello è Sanji comunque tra i ritorni di Jack spero che Oada ci mostri per davvero il meglio del mammut contro quelli che da circa 200 capitoli sono in fondo i suoi avversari cane gatto e ninja questo condivido in pieno perché effettivamente Jack è legato alla storia di Zou da lì è iniziato e lì finisce il cerchio si chiuderà lì non meno importante tra Nico Robbins che è sempre divina Yamato così disposto ad accogliere Momo tra le sue braccia sì come no Black Mary Oada a suo giro ha piacevamente spinto sul fattore sensualità credo di interpretare il comune pensiero dicendo che non è né la forma ibida di Kaido né il personaggio dell'ombra che aiuti i foderi che il fandom vuole dare il resto ma è il frontale delle ultime vignette esatto no ma ci sta veramente a parte tutto è stato molto bravo Oada anche a utilizzare questi altri sistemi ma io l'ho sempre detto che One Piece è il manga completo perché dentro ha anche tanto Entai lo sfondo di prima di Nico Robbins non è una battuta cioè ci sono delle immagini pazzesche di un piedone che schiaccia giantess foot stomping le conosco tutte quelle categorie lì quelle lì da buon fetiche comunque andiamo avanti da Youtube David Bolero Robin donna forte che si sa difendere da sola Sanji ammette di non essere in caso di sconfiggere Black Mary è molto bella e profonda la fiducia che riponi in lei Metà del fandom si arrabbe per una scena che invece è fantastica perché distrugge un sacco di stereotipi mamma mia che mentalità patriarcale che c'è ancora in giro la donna può salvare l'uomo ed è fighissimo come è successo qui il sottoposto di Kid che dice in una vignetta che vergogna Sanji quale lettore medio è tutto vero però attenzione a una cosa poi mi chiedo ma quando parliamo così siamo poi disposti noi a farci salvare da una donna perché guardate è facile da fuori dire no ma Sanji dai in fondo è l'eroe se hai fatto salvare la donna lo sto parlando con David Bolero in generale cioè quando poi attacchiamo ma poi siamo disposti a questo faccio un esempio domani mattina vi iscrivete a un corso di karate state lì pronti mettete in posizione chi è la vostra istruttrice una donna a cintura nera di karate e io che comunque faccio palestra mi sento un informe forte devo farmi insegnare il karate da una cioè devo accettare l'idea che questa se volesse mi farebbe il culo così cioè sul serio ma riuscite ad accettarlo o no questa è la domanda perché è tosta capito sta roba quindi potremmo quasi dire siamo tutti col culo degli altri cioè ci siamo capiti no perché poi è facile alla fine magari sono più coerenti quelli che invece non accettano Sanji umiliato così perché dice vabbè io però perlomeno sono onesto lo dico invece magari tutti qui adesso fanno tutti quanti no quando mai le donne ma scherzi sì ma poi lo accettiamo o no nel profondo perché è lì il problema comunque Crisio secondo me Momo emozionato si è trasformato in un draghetto e si è nascosto meglio sotto le vesti dove si è infilato siamo sempre lì comunque Frankie Schiena di Lennio addio chat live povera Frankie oggi veramente l'avete distrutta sta poverina aspetto con curiosità la mano sul perfezionismo complimenti anche solo per averci pensato no no ma è un argomento su cui ci penso molto perché soffro di questa patologia che ripeto non significa sentirsi perfetti tutt'altro significa sentirsi sempre inferiori questo è perfezionismo vabbè poi ne parliamo se vi interessa il tema poi ne parliamo nel prossimo amaro senpai no vabbè la chiamata mi ha fatto morire sei un grande veramente non è colpa mia se ricevo una marea di pubblicità poi in momenti epici e quindi cioè avevo appena letto nella live reaction la scena quella lì in Yamato che dice vieni Momo Noso che viene a salvarti qui tra le mie braccia mi arriva una telefonata e scusa chiedo scusa ma ho appena visto delle robe importanti mi pare di aver detto roba del cielo mi ricordo Carmine Oliva ecco anche qui ma secondo voi se un uomo si deve umiliare appositamente chiamando l'aiuto di un'altra donna è veramente parità per mettersi a livello della donna Sanji non combatte neanche esisterà veramente questa parità a me sembra assistenzialismo ed è qui il punto saliente che non ho voluto trattare prima nel videocommento perché per me il videocommento non è i primi dieci minuti ma è tutto il video e quindi se ci sono tante persone che in questo momento avendosi visto solo la prima parte del video avendo visto che io non ho trattato il tema lo dicono in realtà il tema lo tratto adesso per rispondere a Carmine Oliva e a tutti coloro che effettivamente vanno a leggere ad utilizzare questa chiave di lettura cioè Sanji non è maschilista nel momento in cui dice io uomo mi sento così superiore a te donna che non ti voglio picchiare a costo anche di farmi picchiare io ma io non ti tocco perché perché io sono uomo sono talmente superiore a te fisicamente che non ti tocco addirittura Sanji infatti a un certo punto dice se io utilizzo l'aghe dell'armatura potrei ferirti ma non è maschilismo questo cioè è un po' come il classico caso quando una squadra sta vincendo 5 a 0 nel calcio cosa deve fare fermarsi o andare avanti arrivare anche a 10 a 0 cosa è più umiliante quello che non combatte perché altrimenti ti faccio male ti umilio troppo quindi quello che pensa Sanji io non combatto nemmeno con una donna altrimenti la distruggo allora preferisco farmi picchiare oppure è più onesto quell'uomo che dice no no io ti picchio pure perché che me ne frega che tu sia un uomo una donna a me non mi interessa nulla io ti picchio che ci sono stati ci sono state situazioni del genere c'è un personaggio in Tekken molto interessante Feng Wei che lui è legato a un personaggio femminile Asuka che lei odia lo odia perché lui ha ucciso il padre della ragazza ci sono poi le due storie sia che vince lei sia che vince lui quando vince lui perché tu puoi prendere il personaggio maschile e alla fine nella storia devi combattere contro Asuka e quando vince lui lei dice ahia mi hai fatto male non è questo il modo di redattare una donna e lui che è un guerriero proprio a tutti gli effetti un campione di Kung Fu Kenpo in realtà che è la versione mortale del Kung Fu si gira e fa dicendo c'è una frase molto importante dice la donna un vero combattimento se io ti mostro rispetto combatto con il massimo della mia potenzialità diciamo più o meno una frase del genere poi traduzione dal cinese per cui è quello cioè Carmine Oliva dice praticamente ha ragione cioè Sanji è un maschilista nel momento in cui tu vuoi fare veramente il cavaliere la parità di diritto parità di sessi allora tu combatti contro questa donna al massimo della tua potenza o è un uomo o è una donna tu non hai differenze questa è la vera parità verissimo argomento interessantissimo se non fosse che se vogliamo parlare veramente di Sanji e onestamente io credo di essere uno che guardate ho fatto il primo pw su Sanji l'ho fatto proprio su di lui perché è un personaggio che veramente ci sta proprio dentro Sanji vi giuro ci sto proprio dentro io lo capisco tantissimo Sanji la figura adolescenziale anche l'immagine che lui ha della donna così particolare parecchie adesso qui staranno pensando ovviamente a Reiju staranno pensando ovviamente a Sora sua madre quindi questo discorso qui lui è legato al ruolo della donna quindi c'è il discorso dell'infanzia però non dimentichiamoci mai questo Zef che quando Sanji che per Sanji è stato il vero padre che dice un uomo non dà mai un calcio ad una donna è una regola che esiste sin dall'era dei dinosauri tu puoi fare tutto eccetera eccetera abbiamo capito poi la conosciamo la storia quindi se in questo momento e non è escluso che possa essere detto già nel prossimo capitolo io mi immagino sta scena ragazzi la dico qui nessuno non l'ha sentita dire da nessuno ma mi piace molto Sanji adesso esce da lì tutto contento con gli occhiacurricini e tutti che stanno lì a percularlo tutti eccolo lì guarda è quello che si è fatto picchiare è quello lì che ha chiamato e a un certo punto lui potrebbe dire ma perché non hai combattuto e lui che si mette una bella sigaretta in bocca e fa sai perché non picchio le donne io per un semplice motivo perché una volta un vecchio puzzolente bastardo mi ha detto che le donne non si picchiano ragazzi questo è Sanji senza fare 3000 pippe mentali senza fare analisi psicologiche chissà quanto approfondite è Sanji cioè non è il personaggio così è Sanji punto l'abbiamo capito basta non c'è altro questo è Sanji cioè più figo di così si muore talmente figo che alla fine Pudding che è l'unica che veramente ha capito chi fosse Sanji alla fine gli ha dato un bacio poi per non storpare il personaggio purtroppo gli ha fatto cancellare la memoria per cui lui non sa di essere stato baciato ma questa è un'altra storia e basta in conclusione c'è un ragazzo Christian L magari quando mi mandano messaggi un po' privati preferisco togliere il cognome ciao perché poi non so se da piacere quindi sai oggi in live oltre a morire dalle rosato ho notato anche che qualcosa di diverso forse ti senti un po' malinconico solo non so quanto possa servire ma c'è sempre la tua community che non potrà darti l'amore che cerchi comunque già è qualcosina addirittura poi mi mette persino volevo condividere una foto fatta da me grazie mille può darsi che non ci abbia capito una serie ma credo che comunque la foto ti faccia piacere quindi c'è una bellissima immagine qui dalla nostra galassia lì a quei 20-25 mila anni di distanza da qui al nucleo nulla di che grazie mille dove c'è un bel buco nero lì in mezzo però grazie per questa bella immagine rivelata e sì sono effettivamente in un periodo un po' malinconico per i fattimi ma tanti problemi tante robe il lavoro la scuola per non parlare anche del fatto che ho dovuto spostare in continuazione le date del rogido il trasloco e mi aspetto un mese di marzo micidiale con tanti impegni la casa nuova e poi sì e poi sempre quel discorso lì comunque un po' la solitudine quella che è ci ridiamo su però comunque non è una cosa semplice da affrontare però comunque grazie mille ragazzi veramente per me è un piacere stare comunque a contatto con la community davvero anche sull'altra piattaforma dove la sera si gioca se in meno persone però comunque c'è un rapporto molto più cordiale mi fa veramente molto piacere quei pochi che mi seguono anche di là dove magari provo a giocare faccio figure di merdo o a fifa o a rally o altre cose però comunque perlomeno si parla anche in maniera così anche dire oggi sto stanco semplicemente mi sento un po' così però è veramente piacevole grazie mille chi mi è vicino e poi Federico Albene se no spole per oggi strike è un capitolo su misura per te non so quale misura sia però comunque cioè se tu conosci veramente la misura però quello che è importante è che è stato effettivamente un capitolo su misura per strike e in conclusione beh io vi ricordo che domani sera alle 20.45 c'è Verona Giuve sull'altra piattaforma per la twitch cronaca così anche per commentare la solita roba la chat e tutto il resto ormai il canale lì sta andando veramente molto più verso il calcio che verso i videogiochi sono dando sta cosa soprattutto adesso avrò tanta possibilità di giocare non avendo scrivanie cose buone quindi sono messo un po' così però comunque mi piace molto il calcio abbiamo anche commentato l'Atalanta Real in settimana quindi bene mi ha fatto piacere anche su questo la vostra presenza bene ragazzi io vi saluto vi raccomando fate i bravi auguro a tutti un buon weekend e niente viva mai come stavolta ci sta bene la fine di One Piece